ma c'è impazzito letteralmente ragazzi non riescono i controller no no non posso fare niente riavvia riavviene il caso l'ho messo col controller vado un attimo eh i naik vabbè sentite vado un attimo a prendere il bicchietto d'acqua ragazzi l'ho trovata l'ho trovata ma questo chi è ma chi sei ma che cacchio sei quella era one hit dai giochiamo si chiama figlio di puttana con la madre a pecora che piglia cazzi nel culo non so come fa stargli letto mastro buffo e l'ho già detto fallito pensa a lavorare invece che rompermi il cazzo perché il mio stipendio di un mese manco quello di tua madre tuo padre di sei li fate fallito rosicone rosicone fallito andiamo rosicone valutano teolmente la presenza di mezza che ha influenzato sironi con i soldi imparo a vivere fallito del cazzo che non arriverai mai qua andiamo mai ci arriverà la terapia non mi sembra il caso non mi sembra un pochettino non mi interessa già mi sembra un pochettino ve lo faccio vedere solo una volta ehi tu hai un abbonamento amazon prime forse non lo sai ma puoi avere un abbonamento gratuito ad uno dei tuoi canali twitch preferiti digita nella chat punto esclamativo prime e scoprirai tutti i vantaggi dell'essere abbonati ad un canale nessuna chat lenta nessuna pubblicità per divertirsi e anche la sab day cosa aspetti sproooooooong sproooooong i'll see i need bouncer i'm having this box oh f***ing dk bro f***ing s*** bustin yeah that kid's f***ing soft aiming jokig the triple dink is over somewhere Non dovremmo mai scegliere il palo Non dovremmo mai scegliere il palo Sì non dovremmo mai scegliere il palo Sì non dovremmo mai scegliere il palo Perché sta danzando? Uno di vita uno di vita Eh ragazzi è in tre Però tre in pompa! Te pompa! Porco dio! Quei pompa l'avevi lappato easy Possiamo notare andare a molle Porco dio! Non puoi restare No no Ti devi andare da qua Brutal! Me ne stavo andando perché ci sono anche le guardie Cristo dio santo vai dritto a nuoto Che ti stanno sparando Ritorna indietro Vabbè Come faccio? Brutal porco dio ti devi allargare verso l'isola Verso l'isola dove? Ma dai Brutal porco dio Però va bene Brutal Però porco dio ma dai figa mia Non l'avrebbe capito Ma stai girando il torno! La cosa bella che l'ho pure pompato Però non ho capito Vedi toglie 23 in testa questo bomba tattico Non ho capito il perché C'è stranissimo Comunque fra domani Vabbè 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 Ti dico Tutte le cose che dobbiamo fare Per aiutare a crescere il canale Come hanno fatto tante persone No Vabbè Davvero Il tumore Il tumore Il tumore Il tumore Cazzo Sto sparando a lui Guarda le tutte Guarda le tutte E' un po' più E' un po' più No No Dittimi che faccio la cadenza La missione se le completa negli scudi Durante po' 15 minuti Ciao Aman Aspirina Ciao caro Venuto col Prime Volete vedere la skin della crew di oggi? Come sto pronto? Sono loro Gustavo Cazzo ho dato Gustavo in gioco Non mi aspettavo di trovarti qua Stai bene Porca Così versione Così è versione puntaggio Così è versione puntaggio Cioè quando stanno facendo le cose illegali su rp Con la maschera Mentre così è quando stanno facendo i lavori illegali Capito? Cioè capito così no? Anche se così sembra Vabbè Capito regà? Capito? Così così regà così Gustavo normale Gustavo versione illegale E Gustavo versione illegale Fate la clip e mandate gentilmente grazie Sto bastardo Viene a mia scheda Viene a mia scheda Viene a mia scheda Viene a mia scheda C'è gente qua il signore, porca la porca di quella gran puttana, porca la troia puttana, la porca della puttana, e non posso dire, no, non posso dire, oh no, ok, alla fine è così, quando fai soldi che fai tu, recognize, cadi sempre in quelle contazioni, percodio, oh, 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 no, no, no 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 no, Ciao 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 Sbaventato anche il cane Madonna che sbocco mi son preso ragazzi No 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 GG Vai 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 Eeeh C'è a te? Improvviso così Così dal nulla Dal nulla No mi interessa il giro sono fiero di quello che sto facendo In questo momento Come va va il giro non mi interessa Mamma mia Mamma mia Ancora lui Ancora lui Ancora lui Ancora io Valmi Grazie a tutti.